Con 296 voti su 540 validi si riconferma primo cittadino di Corletto, Monforte, Antonio Sicilia. Sindaco, che sapore ha questa vittoria? Beh, più che sapore, in questo momento sento la responsabilità che ancora una volta il popolo ha voluto, come dire, concedermi per amministrare questo paese e io a questa responsabilità voglio rispondere con un grande grazie a tutto il popolo di Corletto. Sicuramente faremo di tutto per non deluderli, così come abbiamo fatto in questi 5 anni dove tante attività sono state messe in essere, a partire dagli investimenti e non solo. E soprattutto continueremo con quella politica che ci ha contraddistinti e c'è nel campo sociale, che abbiamo dato tanta attenzione soprattutto alle persone. La composizione della lista, formata da persone giovani e meno giovani, ma tutte altamente motivate e qualificate, ha determinato questa riconferma? Beh, è stata una squadra ben organizzata, con l'esperienza soprattutto che crede sia cosa fondamentale. E anche, credo poi, le persone hanno voluto confermare, quindi premiare la continuità, che è un fatto essenziale, perché soprattutto in un momento difficile dove le autonomie locali devono affrontare con determinazione l'arrivo del federalismo fiscale. Credo che conoscere la realtà della macchina amministrativa sicuramente si può avere una marcia in più per dare delle risposte concrete e serie. Ebbene, questi giovani e meno giovani, questa squadra, ha tutte queste caratteristiche per poter affrontare con serenità un processo, diciamo, riformatorio in atto, che sicuramente ci potrà vedere protagonisti in modo serio. Durante la campagna elettorale c'è stato un momento difficile che la squadra ha dovuto superare? No, l'abbiamo affrontato con molta serenità, perché avevamo appunto dalla nostra parte l'esperienza, la conoscenza, abbiamo messo in campo le idee che noi volevamo portare avanti per il nostro Paese, il nostro programma elettorale ben articolato, con i vari punti che vanno a mettere in luce le criticità e quindi su cui noi intendiamo portare avanti con determinazione per cercare di dare delle risposte. Quindi così ci siamo presentati al popolo, il popolo ha capito e ci ha votati. Per questo nuovo mandato all'amministrazione in Sicilia cosa si propone? Qual è il primo obiettivo da raggiungere? Innanzitutto continueremo a dare risposta a quella che è la dignità dell'essere umano, che è al centro della nostra politica e poi continueremo a mettere chiaramente in atto gli investimenti che già abbiamo programmato, quindi a breve inizieranno, quindi si avvieranno una serie di cantieri per cercare quindi di concretizzare quello che già avevamo fatto nei cinque anni precedenti. E soprattutto vorremmo concretizzare una serie di iniziative che vanno verso l'occupazione giovanile, che abbiamo già avviato e che credo che dovrebbero concretizzarsi a breve anche in questo senso. Facendo un po' di autocritiche, guardando al passato prima ancora che al futuro, c'è stato un errore anche inconsapevole che l'amministrazione ha fatto nella precedente amministrazione a cui dovrà rimediare? Credo che errori non ce ne siano stati. E' chiaro che in ogni momento storico bisogna dare delle priorità. Le esigenze sono tante, le difficoltà sono tante. Ebbene bisogna dare delle priorità, sapendo appunto mettere in prima linea quelle che sono quelle più imminenti, più necessarie. E' noi così che abbiamo fatto. Adesso, quindi in questi altri cinque anni, sicuramente cercheremo anche in questa fase di capire quali sono le esigenze più immediate e a quelle daremo risposte.